Si terrà domenica 3 aprile presso il Centro Sportivo Oblevalente di Villaggio Peruzzo la prima edizione del torneo un calcio per la legalità in memoria di chi ci ha lasciato. Il ricordo dei colleghi che ci hanno lasciato prematuramente sia della costura del vigento sia delle altre forze di polizia. Infatti saranno presenti non solamente le istituzioni ma anche familiari delle persone che purtroppo ci hanno lasciato durante l'anno. I tornei prenderanno parte sia la squadra rappresentativa della Polizia di Stato sia le squadre che rappresenteranno l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco. Il torneo avrà inizio alle ore 10 e terminerà intorno alle ore 17.30 con la premiazione. Premiazione che riguarderà sia le quattro squadre migliori che si sono posizionate durante il torneo, sia il miglior marcatore e il miglior portiere. Vi voglio ringraziare il Comune di Agrigento. Grazie a tutti.